E poi ragazzi benvenuti in questo nuovo video, sono Gio007 di GFFG, oggi ragazzi siamo tornati su Swatcher Battle Perché oggi proveremo un nuovo talciatore finalmente, si chiama Crash E voglio provarlo, l'ho trovato off camera perché praticamente tipo è finita la stagione Non so bene dove controllare quando finisca, però praticamente è finita la prima stagione ed è iniziata un'altra E praticamente mi hanno dato tre casse di fine stagione, in queste tre casse, vabbè borse, ho trovato lei Però non potevo non aprirle perché appunto non, come si dice? Non potevo, me l'ha andata subito, non potevo fare altro Comunque andiamo a provarla, prima partita che faccio con questo nuovo calciatore E vediamo com'è, non l'ho vista neanche troppo in partita, quindi non so neanche troppo le sue caratteristiche Però ecco, è figo, anche perché non ne trovavo mai di calciatori, finalmente un po' anch'io ho avuto un po' di fortuna Abbassiamo leggermente il volume, ok vediamo la sua scivolata, bella la sua scivolata E' anche abbastanza veloce mi sembra di vedere Ha un tiro lunghissimo anche, porca miseria E ti tiene a dare anche perché per 6 secondi, no ragazzi, è forte questa crash E' un po' lenta con la palla, però è forte, oh Tira la palla di là Passa la, ecco Ecco di nuovo Bravo Se me la passi abbiamo vinto Cioè, io segnare di schiacciata, cioè di schiacciata buonanotte di scivolata, ecco E ho segnato GG Andiamo e continuiamo Comunque mi sembra molto forte, oh cavolo Sì certo domani Ma io da qua segno in realtà Perché a me, cioè, io non sono abituato ad avere giocatori con un raggio così ampio di gol E' bellissimo Porca miseria Poi ragazzi in questi periodi Porterò anche un video su FIFA Mobile Che è un gioco che ho scoperto Essere molto carino Quindi ci porterò video Ma poi ti lascio a terra per un bel po' di secondi In realtà Guarda, ma c'è una scivolata Vergognosa E' anche un tiro vergognoso Abbiamo vinto tra a zero Facilissimo proprio Mannaggia E' forte questa, regà E' una dei più forti secondo me a sto punto Cioè E ci credo che sono il miglior Fatto tutto io Oh GG, regà Fortissimo Ma fortissimo veramente Porca miseria In questo periodo sto cercando, diciamo, di ritornare su YouTube Più che posso E speriamo anche perché non Voglio provare a non Non ripetere quel periodo d'assenza Lunghissimo E meno male che ho trovato questo Questo calciatore Così almeno Qualcosa Vabbè no, regà E' troppo sgravo E' troppo sgravo Cioè Mi ho tirato i due Così Con una scivolata E' lunghissima una scivolata ragazzi Guardate qua E' una roba Vergognosa Mamma mia Io sono abituato ai Cosi classici Che fanno veramente Schifo Cioè non schifo Sono difficili da usare Più che schifo Perché sono troppo Troppo così Guarda che questo di scivolata Ti prende sempre Un'atterrata i tre Cioè Praticamente tre Due E ti lascia a terra anche per tipo sei secondi Guarda Sette secondi ti lascia a terra Tantissimo Sette secondi Guarda lì Mamma mia Cioè le stiamo vincendo proprio velocissime Di solito le partite Durano vent'anni E stiamo vincendo la velocità della luce Ecco Ho sbagliato Sì però showtime E che cavolo Ops Bravissimo Bravo Passala Tiro E gol Da lontanissima Tira ragazzi È vergognoso Ci sta Ci sta Bellissimo 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 Ovviamente sempre il migliore Vabbè ma sto a fare tutto io Ok È veramente figo Veramente veramente figo Perché Boh È molto Come dire È molto versatile Nel senso che va bene Sia per scivolare Sia per colpire Cioè perché ti Ha una scivolata lunga Ti lascia a terra per tanto Obiettivamente E anche un tiro lungo Quindi Non male Non Veramente non male Questo cattro Tra l'altro c'ha Come fa a tenere 5 secondi a terra con Joe Non si sa Tanto qua sono stupido Però va bene È anche quell'altra Quell'altro Cosa lì Quell'altro calciatore lì è forte In realtà Fai i tiri a giro Però Non ha segnato Vediamo se riesco a segnare No 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 Qua ha voluto Un po' troppo Forse Però tra un secondo ritorno Quindi quando vuoi me la passi Me la passi Tiro gol Fantastico Questa qua la pure Missata da paura Wow Un bel gioco di squadra Ok Bel gol Bel gol dai Ce lo concediamo Ma cos'è successo? Non so solo che adesso Non è vero che c'è il tiro a giro Meramai che c'è lui che la parata Redrilinto Passamela No 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 Mi sa che qua Ok Per fortuna Non l'ha persa Vai ancora ancora Peccato 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 Però per fortuna Il tiro a giro Quindi gli torno anche un po' indietro Oh mamma No Non ci credo Dai In due l'abbiamo missata Non ci voglio credere Non ci voglio credere Ti prego parallel in qualche modo Bravissimo Vai Vai tizio vai Sei fermato Vabbè sogno io Mamma mia Con rischio Con rischio questa qua Con rischio Adizioni di portarci anche delle challenge Su questo gioco ragazzi Quindi rimanete sintonizzati E anche delle Delle aperture di borse Diciamo E Sperando di trovare La roba buona Cioè già questo coso Raga Questo calciatore È veramente fortissimo Secondo me Ma forte Per essere forte Proprio Non Cioè Guarda lì Guarda lì che scivolate Vabbè raga E Spero che questo video Si è piaciuto Come al solito Se vi è piaciuto Mettete un bel mi piace Iscritti al canale Se ancora non l'avete fatto Apriamo anche magari Una borsa Medale che ci dà I suoi punti di energia Vabbè Comunque spero che vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mi piace Iscrivetevi al canale Campanellino Seguitemi su Instagram Che trovate sempre in descrizioni E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao ragazzi